Sempre più compatto e critico il fronte antitassa di soggiorno. Confcommercio, Confesercenti, Confturismo, Assoturismo, Federalberghi e Assotel dell'Emilia Romagna ribadiscono infatti la forte contrarietà alla reintroduzione della tassa. Il turismo rappresenta un volano anche per gli altri settori produttivi, sostengono le associazioni con forza, e fornisce un apporto determinante allo sviluppo economico generale. È perciò controproducente penalizzarlo con una tassa che i comuni non avrebbero l'obbligo di introdurre, ma che in ogni caso creerebbe una forte disparità tra gli stessi. Se esiste il problema di finanziare le maggiori spese che i comuni a vocazione turistica debbono sostenere, propongono le associazioni, si potrebbe prevedere per loro una compartecipazione al gettito dell'IVA e non penalizzare la competitività di un settore strategico come il turismo. La tassa di soggiorno, invece, colpirà in modo particolare la vacanza delle famiglie, finendo per indebolire anche le campagne promozionali in Italia e all'estero. È assurdo immaginare, a fronte della bassa capacità di spesa dei consumatori, di presentarci all'imminente bit alla Borsa Internazionale del Turismo con una tassa sulla vacanza. Teniamo conto inoltre, conclude il fronte dei contrari, che il turismo italiano non è rappresentato solo da Roma, Firenze e Venezia, ma da tante altre destinazioni, comprese quelle dell'Emilia Romagna, che dovrebbero subire una tassa che danneggia la loro competitività e che si aggiungerebbe a un'IVA più alta rispetto ai nostri competitori europei.